Ci troviamo a Lama in via Girasoli, una zona baciata dalla natura per quanto riguarda le bellezze naturali, per quanto riguarda lo splendido magnifico affaccio al mare, ma una zona schiaffeggiata dalla inciviltà e dalla inerzia amministrativa. Non è possibile che questa zona si sia trasformata e si trasformi quotidianamente in una discarica. Ci sono certamente gli sporcaccioni cittadini civili, ma l'amministrazione deve intervenire e mi fa rabbia la cosa pensando che proprio a pochi metri da questa zona c'è uno stabilimento balneare, bellissimo davvero e ve lo consiglio, dove vanno molti nostri politici e questi nostri politici non si rendono conto dello schifo, scusatemi l'espressione forte che c'è qui, non si rendono conto delle discariche a cielo aperto e gli amministratori comunali non vedono o fanno finta di non vedere? Cosa aspettano ad intervenire? Poi c'è il problema dell'erosione della costa, vedete, proprio tutto il tratto, il manto stradale è stato negli anni eroso, progressivamente, è stato transennato, ma qui ovviamente parliamo di un livello regionale di competenze e non c'è stato ancora alcun intervento per frenare, per risolvere, per arginare, e arginare sarebbe già qualcosa questo fenomeno dell'erosione. In altre zone, in altre realtà, pugliesi si sta facendo, ma questa, si sa, è una landa desolata. E allora, signori amministratori, ritornando al discorso di prima, quando andate a farvi il bagnetto nell'acqua e prendete il sole, sperando che non vi dia troppo in testa, guardate queste discariche, fate una telefonatina e fate intervenire chi di dovere, capito?